Il Presidente del Consorzio Alta Pianura fiducioso che presto possono essere avviati i lavori del bacino sulla dioma tra Costa Bissara e Monteviale. Il bacino del dioma sarà presto realtà. Si tratta di un'opera che permetterà di mettere in sicurezza il territorio fino a Sant'Agostino. Quest'area di 30 ettari posta alle spalle di Villa Zileri tra i territori di Costa Bissara e Monteviale potrà contenere circa 800.000 metri cubi d'acqua. Questo è l'annuncio del Presidente del Consorzio di Bonifica Alta Pianura Veneta Silvio Parise, che ha partecipato ad un incontro sulla sicurezza idraulica voluto dal comune di Costa Bissara. Per la verità il bacino, che costerà 10 milioni di euro, non è ancora finanziato dalla Regione Veneto, anche se posto tra le priorità di futuri interventi di salvaguardia ambientale. Lo studio incaricato alla predisposizione del progetto definitivo dovrà consegnare gli elaborati progettuali entro settembre di quest'anno. Una possibile data di inizio lavori è la fine 2016. Per l'esecuzione del bacino ci vorranno due anni. Durante l'incontro Parise ha ribadito che l'acqua non va associata solo agli allagamenti. È una risorsa sempre più importante anche sul versante della produzione di energia, come accade nell'Alto Vicentino, tra Sarcedo e Zuliano, dove sette centraline poste sul canale Mordini producono il corrispettivo di 800.000 euro l'anno. E presto, un analogo progetto potrebbe essere realizzato in una roggia tra Schio e Marano.